Una raccolta di pensieri di un artista che è stato rinchiuso, come tutti quanti noi che facciamo questo mestiere, è stato rinchiuso in casa per tanto tempo, quindi con difficoltà estreme per quanto riguarda l'intelletto, perché siamo andati un po' fuori tutti di testa, con grande paura per ciò che stava succedendo e anche con grande speranza per venirne fuori. Comico scrittore volto di striscia alla notizia, Enzo Iacchetti presenta così il suo Non è un libro, solo pensieri acidi e non, progetto nuovo di Zecca che vuole raccogliere fondi per la Croce Rossa italiana, un'iniziativa di solidarietà che in questi giorni lo ha portato prima a Vicenza e poi a Venezia, il Covid secondo Iacchetti insomma alternando sorrisi, riflessioni ma anche riferimenti all'attualità. Io sono per i vaccini sicuramente, non sono per obbligare nessuno a farli, però anche quelli che non li fanno per cortesia rispettino quelli che li fanno e soprattutto non intacchino l'immunità degli altri. Se non siamo responsabili e non abbiamo buon senso e diamo retta ai nostri politici, siamo fottuti per un altro anno e mezzo o due. Appello alla responsabilità che arriva anche da un altro volto noto dello spettacolo italiano, in questi giorni a Rosolina Mare per una serie di eventi, Savino Zava. Ho fatto entrambe le dosi, quindi ho il Green Pass, l'ho fatto per me e l'ho fatto per gli altri, cioè l'ho fatto per difendere la mia salute ma anche quella degli altri, per cui trovo che sia una scelta responsabile.